Buongiorno amici di investire in borsa a caccia dei dividendi, ottimi risultati per Banca IFIS presentati durante la giornata di ieri, un chat one pari al 15,01% in leggerissimo calo dal 15,44% di inizio anno. Utile invece in rialzo del 10% a 150 milioni di euro rispetto alle stime di 137 milioni di euro fornite l'anno scorso. Inoltre il dividendo sarà di 1,4 euro per azione, ricordiamo che è già stato staccato l'acconto di 40 centesimi nel corso del 2022, quindi quest'anno un bel saldo di 1 euro per azione per Banca IFIS.